Salve Detective Fitch, voglio fare un gioco con lei, la marea della giustizia sta per travolgerla, tra 90 secondi l'acqua salirà all'altezza dei cavi di ame e se lei sarà ancora nella vasca verrà folgorato, a meno che non compia un sacrificio che la purificherà. Lei ha ucciso un uomo perché l'aveva insultata, le sue dita hanno premuto il grilletto e questo non può succedere ancora, sopravvivere è semplice ma necessita di un sacrificio, se morde stringendo l'attrezzo che ha in bocca attiverà il motore che poi le strapperà le dita e a quel punto sarà vivo e libero di scappare, ma se non agisce in fretta ad attenderla c'è questa tomba d'acqua. Vivere o morire, a lei la scelta. a lei la scelta, a lei la scelta. a lei la scelta a lei la scelta a Ahaha!